Ciao Fabio e ben arrivato lo YouTube Pulse. Siamo molto felici di averti qui perché finalmente possiamo toglierci un dubbio. Per avere successo su YouTube, secondo te, è più importante essere pazzo o essere un genio? Vanno bene entrambe le cose, l'importante è essere spontanei perché quando si fa un prodotto spontaneo la gente lo percepisce, si diverte e insomma questo è il segreto secondo me. Non bisogna fare le cose forzatamente o di mala voglia ma bisogna farle con spontaneità e con allegria. Questo secondo me è il segreto di YouTube e dei contenuti web. Grazie mille perché detto da te questo è sicuramente un preziosissimo consiglio.